A Lingua Glossa l'amministrazione comunale si prepara alla stagione primaverile, l'Etna si toglierà il manto di neve per far spazio alle escursioni che attraggono turisti, ma non soltanto. Noi abbiamo dato seguito a un protocollo d'intesa che avevamo fatto tutti i sindaci del versante nord, che vanno da Fiumefreddo fino a Bronte. In quel protocollo avevamo immaginato uno sviluppo comune di questo territorio che passava anche attraverso il bando per le escursioni ai crateri sommitali, nella fase successiva che sarà il project. Il bando è stato aggiudicato a un'associazione temporanea di imprese che si chiama Etna Mobility e questa settimana l'abbiamo usata per fare incontrare questa realtà imprenditoriale prima con i sindaci del protocollo e quindi del territorio e poi successivamente, in una riunione che ho fatto ieri, con gli operatori del territorio, sia albergatori, strutture ricettive, ma anche gli operatori di Piano Provenzano e i commercianti tutti, perché, secondo me, sempre nell'ottica di uno sviluppo comune, questa collaborazione è fondamentale. Le escursioni partiranno, noi speriamo, subito e quindi a metà di aprile, chiaramente siamo condizionati un po' dalle condizioni climatiche, però si potrebbe iniziare a fare escursione alla Bottoniera del 2002, quindi diciamo un po' più in basso. Il sindaco Salvatore Puglisi spiega ai nostri microfoni i vantaggi del protocollo d'intesa firmato da tutti i sindaci del versante nord, anche dal punto di vista prettamente economico. Abbiamo già assegnato la ditta locale per fare la biglietteria e tutti i sindaci del protocollo e quindi i cittadini dei comuni di Fiume Freddo, Piedimonte, Lingua Glossa, Castiglione, Maletto, Bronte e Randazzo soffriranno di una scontistica unica come residenti del versante nord dell'Etna. Oltre ai cittadini questa scontistica l'abbiamo estesa agli ospiti delle strutture ricettive, quindi un turista che si trova in una struttura ricettiva di Fiume Freddo, di Piedimonte, di Lingua Glossa, ma chiaramente di Castiglione fino a Bronte, usufruisce sulle escursioni estive di una scontistica pari al 30%. Ci sembra un buon metodo per sentirci tutti abitanti dell'Etna e per avere pari dignità e pari diritti, ma anche per dare ai nostri ospiti, secondo me, una visione unitaria di quello che è l'Etna e della promozione dell'Etna.